Giovanni Iacovacci dell'Antonio Palluzzi in questa nuova edizione che sta per partire del Mediolanum Baby Cup. Insomma la vostra società è sempre stata presente in un torneo che anno dopo anno riscuote sempre un successo maggiore. Che cosa ti aspetti da questa stagione del Mediolanum? Ci sono molte società che sono state confermate, tante altre squadre invece nuove. Ci sarà comunque da divertirsi per tanti ragazzi. Ma di sicuro il Mediolanum è sempre un torneo che dà stimoli alle società. Partecipiamo con molto gradimento a questa manifestazione che ci accompagnerà per l'intera stagione. Partirà infatti poi, lo dirà anche Giuseppe, a ottobre per finire a maggio 2016. La nostra società parallelamente è cresciuta con il Mediolanum. È una società che ha gli stessi anni del Mediolanum. Abbiamo partecipato per la prima volta quando Giuseppe ci ha invitato e da allora non siamo mai stati assenti. Questo per noi fa bene. Siamo contenti perché questo è un torneo che fa divertire i bambini. Lo spirito è quello giusto. Quest'anno so che ci saranno molte novità. Io le ho lette nei debilianti pubblicitari che ha mandato l'organizzazione e devo dire che mi trovo d'accordo con tutte le variazioni che sono state fatte. Qui auguro un buon divertimento a tutte le società e a tutti i bambini che giocheranno presso i campi del centro Acura Fitness. Grazie a tutti.